Inizio in due a tre giorni, tu avrai un verbale patto, tutto il piano già non sono preparato, un verbale patto con tre prescrizioni, due uc, i dormitori e via di buga. Grazie. 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 Non so, quello c'è, non so Non so, quello c'è, non so Non so, quello c'è, non so Non so, quello c'è, non so